Quando il restauratore è un pulito, da vicino si vede di più, la torre, le due torri e sotto c'è il fosciato. Questo qui invece è un grifone, non siamo riusciti a capire di che casato è perché il grifone è un simbolo molto diffuso e quindi non si è riuscita per ora almeno a capire, perché se l'hanno messo li hanno pagato per fare lo stress. I lugnani avevano i colori rosso e verde, infatti vedete che vengono lì, sono rosso e verde, rosso e verde, era il loro colore.